Campagna itinerante come tradizione vuole per il Movimento 5 Stelle che per le prossime elezioni regionali toccherà, ha detto Sara Marcozzi, candidato presidente tutti i comuni abruzzesi e nell'occasione oggi sono stati presentati i mezzi che verranno utilizzati per gli spostamenti. Oggi parte ufficialmente la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle, come tradizione gireremo tutti i comuni, tutti e 305 comuni, abbiamo l'ambizione ovviamente di arrivare a tutti e di portare il nostro programma basato sul lavoro, sulla sanità, sul turismo e sul rifacimento delle strade a tutti i comuni, a tutti i 305 comuni abruzzesi. Abbiamo oggi ritirato quelli che saranno i mezzi che ci accompagneranno, c'è un minivan che porterà me in giro e tante automobiline con i quali i consiglieri candidati, i consiglieri regionali gireranno in lungo e largo l'Abruzzo senza tralasciare nessun'area. L'obiettivo che ci poniamo e che ci siamo posti in questi quattro anni e mezzo è di non lasciare nessuno indietro, quindi nessun comune sarà lasciato indietro e ci proponiamo agli abruzzesi per governare un'intera regione e non soltanto le città dalle quali proveniamo.